E allora come ADL Cobas e Sicobas abbiamo inviato la nostra piattaforma di lotta, la nostra piattaforma rivendicativa chiedendo alle associazioni padronali, al governo di sederci al tavolo per contrattare insieme questo rinnovo e non abbiamo avuto nessuna risposta, questo è un comportamento inaccettabile perché ADL Cobas e Sicobas rappresentano tantissimi decine di migliaia di lavoratori ecco perché oggi abbiamo deciso di incrociare le braccia e di bloccare il flusso delle merci in tante città e anche qua alla number one di Parma quindi oggi per tutta la giornata sarà sciopero sciopero, 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 sciopero sciopero, 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 sciopero